C'è tanto rammarico e tanta amarezza perché al primo tempo abbiamo veramente dominato su tutti i punti di vista e non siamo riusciti a concretizzare le buone azioni che abbiamo prodotto e poi quel gol che hanno fatto loro alla fine ci ha un po' tagliato le gambe e al secondo tempo non siamo riusciti a reagire bene come al solito Sì, sappiamo che è una buona squadra come tante in Serie B però abbiamo visto all'andata che non siamo inferiori a nessuno, neanche a loro quindi noi ce la giochiamo con tutti, vogliamo andare lì per fare risultato e senza temere nessuno